Gestare alla presentazione dell'evento al Teatro dal Verme di Milano, il cantante Mika intervistato dal giornalista Beppe Severnini. Mika, molto amato dal pubblico giovane, ha raccontato la sua esperienza milanese tra battute e eronia. Poi, nel finale, è stato seppellito da una valanga di richieste di selfie e di autografi.